facciamo qualche riflessione sparsa su l'ansia da prestazione già nel termine nel nome di questa patologia sono contenute tantissime informazioni tantissimi indizi su cosa potrebbe essere da un lato c'è il termine ansia quindi con tutto ciò che comporta una preoccupazione un'agitazione una prensione soprattutto dal punto di vista mentale ma anche potenzialmente delle componenti fisiche come una tachicardia la sudorazione la secchezza delle fauci eccetera ho già fatto tantissimi video sull'ansia in sé dall'altro l'altro termine appunto particolarmente esplicativo è la prestazione nel senso che l'ansia da prestazione è presente in tutte o potrebbe essere presente in tutte appunto quelle azioni appunto prestazionali cioè che non sono esclusivamente quella sessuale possono essere quella sportiva quella lavorativa eccetera eccetera ok per quanto riguarda l'aspetto puramente sessuale l'ansia da prestazione si caratterizza principalmente per quanto riguarda la sfera maschile di due potenziali componenti che possono presentarsi individualmente o in coppia la prima è la difficoltà nel raggiungere o mantenere l'erezione tale da appunto rendere rapporto soddisfacente la seconda è la eiaculazione precoce queste sono le due principali manifestazioni a livello fisico che appunto l'uomo subisce nel momento in cui vive una condizione d'ansia da prestazione ho fatto dei video dove spiego quali sono le caratteristiche appunto più nel taglio dell'ansia da prestazione e cosa può essere fatto oggi volevo però approfondire anche qual è la degenerazione che l'ansia da prestazione assume poiché non è insolito che l'ansia da prestazione ad un certo punto vada ad innescare un circolo vizioso di pensieri di frustrazioni di paure che poi hanno delle conseguenze gravi anche all'interno della coppia da un lato e sulla qualità della sessualità vissuta dalla persona che ne soffre dall'altro nel senso che succede che oltre alla frustrazione del momento si inneschi un loop nella testa per cui si ha paura magari ad approcciare il successivo rapporto si ha paura di appunto esporsi al rischio di averne uno e quindi magari si iniziano a mettere in atto delle tecniche dei meccanismi di evitamento banalmente so che potrei avere un rapporto sessuale quindi anziché andare a casa con la mia compagna mi invento che magari è meglio se ci fermiamo a bere una cosa prima di tornare a casa in modo tale da tirare in lungo e non espormi al rischio di avere un rapporto o entrambi partner potrebbero iniziare a sviluppare una certa apprensione nel vivere il rapporto sessuale da un lato l'uomo che è preoccupato di ciò che potrebbe accadere non vorrebbe fare l'ulteriore figuraccia e quindi non vorrebbe esporsi a qualche giudizio umiliante da parte di lei che poi non arriva praticamente mai questa cosa anche presente solo nella testa dell'uomo e non in quella della donna lei che invece rendendosi conto di muoversi continuamente sulle uova nella speranza che appunto si riesca a portare a termine un rapporto soddisfacente talvolta magari preferisce quasi non viverlo questo disagio quindi sia verso di sé sia verso l'altro e quindi magari a sua volta si sottrae dal rapporto sessuale innescando poi progressivamente un incancrenirsi del problema un incancrenirsi della situazione che non venendo risolta diventa un macigno e che ad un certo punto rende impossibile interrompere questo questo loop sino che la persona quindi da un lato non si trova più a vivere serenamente la sessualità o addirittura la trasforma nel senso che magari come dire si orienta principalmente verso la masturbazione dove magari l'ansia da prestazione appunto non è presente o riduce drasticamente il numero di rapporti nonostante invece abbia voglia magari appunto di avere dei rapporti si sente appunto eccitata e questo progressivamente porta a ledere quindi a cascata un po effetto domino la complicità il rapporto aumenta le tensioni rende progressivamente la persona più nervosa e poi si innescono tutta una serie di paure che sono anche in questo caso prettamente maschili come ad esempio la paura di essere lasciati la paura di essere umiliati e non fa altro che appunto aumentare costantemente questa preoccupazione in altri casi magari meno gravi l'ansia da prestazione si può presentare invece in una maniera più soft ma comunque subdola per la qualità della sessualità vissuta dalla persona ad esempio la persona l'uomo mentre ha questo rapporto continua ad osservarsi controllarsi misurarsi è come se da un lato ci fosse una parte del proprio cervello del proprio corpo immerso nel rapporto sessuale dall'altra una fetta rimane della propria testa del proprio cervello rimane lucida e osserva quello che viene fatta e quindi in qualche modo incita e questo sì magari è utile per portare a termine la prestazione ma dall'altro non permette all'uomo in questo caso di vivere a pieno la prestazione il mio consiglio qual è il consiglio è che innanzitutto per parlare di ansia da prestazione deve essere una cosa costante presente non deve essere un episodio sporadico non deve essere un momento di transizione passeggero appunto ma deve presentarsi con una certa continuità dall'altro prima si chiede aiuto quindi con un intervento psicologico prima è verosimile uscirne da un lato perché non si è ancora innescato questo circolo vizioso dall'altro perché la persona ha ancora la voglia magari di sperimentare di mettersi alla prova di fare dei tentativi appunto volti al superamento del problema e oltre a questi due elementi è sicuramente fondamentale poterne parlare all'interno della coppia cioè provare a discuterne in modo tale da trovare una complicità poiché è vero che solitamente l'uomo si sente e si vive talvolta può anche essere additato come colui che porta il problema dall'altro è innegabile che però come dire l'effetto di questa difficoltà poi lo viva la coppia non solo sotto le coperte ma anche all'interno appunto della propria relazione quindi da un lato aspettare di fasciarsi la testa prima di essersi alla rotta sostanzialmente prima che il problema si ripresenti con una certa frequenza chiedere un aiuto immediato nel momento in cui appunto si presentano queste difficoltà e trasformare la coppia come una risorsa per affrontare il problema e non invece come un vincolo che impedisce appunto di poterlo risolvere